Il vicepresidente della Nuova Gioiese, Francesco, una vittoria importantissima, meritata, dopo di una settimana di lavoro intensa dopo il pareggio con la Bovalinese di domenica scorsa. Sì, è breve, sono veramente da tre mesi che lavoriamo e questi qua sono inizionali del seafood. È una squadra che è composta da giovani, ragazzi che non hanno mai partecipato di eccellenza, quindi siamo partiti con molta voglia di crescere, infatti oggi si iniziano a vedere i risultati dei giovani che iniziano a imporsi nel campo con voglia, molti gioiesi come vediamo, quindi siamo soddisfatti. Domenica la squadra ha fallito forse un po' troppe occasioni da gol, quest'oggi invece ha giocato alla grande e ha concretizzato praticamente tutto. Secondo me la partita della scorsa settimana era utile, un risultato del genere, proprio per essere consapevoli dei nostri problemi e risolvere, secondo me l'abbiamo risolta in questa partita. Dobbiamo confermarci in tutte le partite che andranno a esserci, però siamo fiduciosi. Francesco per concludere, qual è il reale obiettivo della nuova gioiesi? E cercare di far crescere i giovani, perché è essenziale, Gioia Tauro dobbiamo cercare di avere un progetto serio che i giovani si devono imporre, perché i giovani gioiesi non avevano l'opportunità secondo me, sono dei ragazzi come dei 92 che si stanno facendo a questo campionato, secondo me i giovani. Il nostro obiettivo è farlo. Il nostro obiettivo è farlo.